allora salve cari amici eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video che vi parla sempre alessio evangelisti vogliamo fare anche questo in questo giorno un video macchina un video a mio avviso anche questo un video molto necessario bene vogliamo parlare questa mattina vogliamo fare un video diciamo soprattutto di tipo storico ma anche di tipo concettuale perché io in questo canale punto molto no all'insegnamento del del ragionare cioè insegnare a ragionare perché alessio tu spesso dici insegnare a ragionare pensi che gli altri siano tutti stupidi no no è esattamente il contrario allora imparare a ragionare questo io l'ho capito ci ho messo molto a capirlo imparare a ragionare è un percorso formativo che uno non finisce mai e riguarda tutti ovvero io adesso evangelisti man mano che vado avanti con gli anni dovrò sempre imparare a ragionare ovvero andare avanti nell'imparare a ragionare perché imparare a ragionare ho capito che non si finisce mai non si finisce mai e ogni volta che ti trovi davanti una nuova situazione devi imparare a ragionare in quella situazione nuova e ripeto ahimè ci ho messo molto a imparare questa cosa e però come si dice meglio tardi che mai quindi man mano che noi scopriamo cose nuove le dobbiamo affrontare e dobbiamo imparare a ragionare in quel nuovo oggetto e per imparare a ragionare dobbiamo anche conoscere l'oggetto il nemico se si tratta di un nemico e dobbiamo imparare a usare la ragione in quel determinato contesto ora quando io ho approfondito un certo contesto di tipo storico eccetera 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 e ho applicato un certo tipo di ragionamento perché conosco l'oggetto conosco il nemico quello che ti pare a sua volta io ne parlo parlo della mia esperienza e posso insegnare a chi non conosce queste cose o a chi più giovane tutte queste cose ecco quindi no 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 lungi da me il pensare che quando io dico voglio insegnare a ragionare come dire gli altri non sono intelligenti no assolutamente in questo canale ci sono molte persone 10 miliardi di volte più intelligenti di me ok però magari se io conosco un oggetto e tu non lo conosci è bene che io te lo insegni e così viceversa ok ecco tutto qua quindi io vorrei in questo video puntare anche sulla razio per quanto riguarda alcuni concetti di tipo storico per quanto attiene il mondo del cattolicesimo conoscere il cattolicesimo in una nazione e in un continente come il nostro è estremamente necessario così come conoscere l'islam per chi abita nel nei paesi islamici vuoi l'oriente prossimo l'oriente anche estremo e così via discorrendo è necessario che loro conoscano l'islam ok bene mentre invece per noi è necessario conoscere il cattolicesimo perché comunque noi viviamo in un continente di sostanzialmente di matrice cattolica e quindi ci andremo a interfacciare con questo con questa corrente con questo pensiero con questa ideologia e così via discorrendo quindi è estremamente necessario quindi dobbiamo conoscere quindi soprattutto questo video vuole rivolgersi oltre che al nostro mondo il mondo evangelico ma anche a tutti coloro che magari non fanno parte di un mondo religioso ma che comunque sono interessati e quindi ecco assolutamente questo video non vuole essere dedicato al mondo cattolico come dire con questo video adesso noi vi dimostreremo e quindi vi convinceremo così non sia no il cattolico continuerà ad essere cattolico a prescindere se gli spiattelli la verità in faccia e quindi non servirà a nulla questo però senza altro ci saranno dei cattolici che sono interessati nel conoscere la verità e anche nell'imparare a ragionare perché ecco ripeto tutti noi di volta in volta dobbiamo man mano che cresciamo nell'imparare a ragionare comunque dovremmo sempre imparare a ragionare sempre io stesso costantemente imparo nuove cose e cresco cerco almeno di crescere nel ragionare in maniera corretta benissimo quindi sostanzialmente noi vedremo tre cose in questo video andiamo a chiudere la prima cosa è ma il cattolicissimo è realmente unito come come la propaganda ce lo vuole presentare e il termine propaganda importante quindi questa è come dire questo è il punto numero uno cattolicissimo è veramente unito come vuole presentarcelo la propaganda punto numero uno il punto numero due è ma il noi siamo protestanti come nasce questo termine protestanti questo è importante ecco questi sono i due punti centrali e il terzo punto è ma il protestantesimo lutero che cos'è come nasce all'inizio che cos'era e così via discorrendo ecco sostanzialmente sono questi tre punti bene adesso senza ulteriori intro vogliamo adentrarci nel 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 discorso io adesso non voglio affrontare la nascita del cattolicesimo apostolico romano no sappiamo tutti che de facto qualsiasi storico te lo sa dire nasce non prima del del trecento e qualche cosa dopo cristo adesso non è tanto questo che desidero ma a un certo punto quando il cattolicesimo apostolico romano nasce ok e come nasce ma nasce soprattutto come dire per una regolarizzazione no del del credo cristiano quindi credo cristiano viene in qualche maniera regolarizzato viene accettato viene fatto questo movimento cristiano viene fatto come dire è una nuova religione così viene vista è un nuovo movimento e come tale va rispettato e diventa adesso il come dire la religione di stato praticamente man mano poi si andrà a convertire queste quindi diventa un vero e proprio monopolio perché costantino stesso e che poi nel 325 nasce il primo concilio che si fa nicea ok ecumenico perché prima di questo e anche dopo ce ne sono stati a centinaia di concili però ecumenici sono quelli quindi nel 325 viene fatto il primo concilio e costantino 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 come dire lui sostanzialmente costantino era più ariano era tendeva verso quella corrente ma costantino non è mai stato un cristiano facciamoci a capire tant'è che si è fatto battesà nella sua morte insomma man mano si va formando questa questa religione cattolica apostolica romana e a un certo punto si va a interfacciare no a un certo punto immediatamente si va a interfacciare con la politica chiamiamola così con la politica con i re con gli imperatori tant'è che molti papi avranno come dire tutti i papi si vanno a interfacciare con la con la con la con la politica e proporranno loro stessi degli imperatori e così via discorrendo o delle famiglie regali pagheranno molti soldi nella storia per far sì che mezzo di mezzo la loro parentela la loro famiglia ci ci fosse almeno un papa e così via discorrendo e quindi come dire questa religione questa religione va sempre più crescendo in potere e in giro per il mondo ci sono molti 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 patriarchi non c'è solamente il patriarca di roma ci ci sono molti patriarchi ma proprio tanti 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 il patriarca siriano il patriarca russo poi nel tempo il patriarca di costantinopoli e così via discorrendo tutti quanti questi patriarchi che sono il vescovo principale della zona ok sono pari tetis e quindi sono tutti quanti ok pari pari ma ci sono due grandi nuclei in questo vasto mondo cattolico il nucleo d'oriente e il nucleo di occidente questi sono i nuclei più grandi quelli più corposi quelli più che in qualche maniera lanciano una impronta importante un'essenza importante quindi abbiamo l'impronta occidentale di stampo latino e l'impronta orientale di stampo greco che hanno il loro potere il greco che leggono le scritture direttamente dal greco e così via discorrendo ma ripeto ci sono tantissimi altri altri patriarchi tutto questo conforma il mondo cattolico il mondo cattolico non è un vescovo a roma con quattro seguaci dietro no 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 il mondo cattolico di ieri e di oggi non è questo è proprio qui il punto che noi dobbiamo comprendere sia da un punto storico arcaico sia di un punto da un punto di vista storico odierno attuale il cattolicesimo non è quello che si pensa erroneamente qui in italia valga la ridondanza non sono quattro pecore qui a roma ma ecco sparso di decine 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 di oltre centinaia di movimenti che stanno in tutto il mondo ok questo è il movimento cattolico ma anticamente c'erano questi due grandi nuclei oriente e occidente i due erano una unità ovvero nonostante ciascuno avesse il suo patriarca che fosse appunto il capo il capo di quella parte ok nessuno aveva una prevalenza sull'altro ma c'era appunto la massima pariteticità è come dire oggi ci sono centinaia di chiese a roma migliaia di chiese evangeliche a roma milioni nel mondo ognuna c'è il suo pastore il suo evangelista i suoi evangelisti i suoi pastori i suoi missionari e ognuno ha delle responsabilità dentro ok la propria comunità ma nessuno è più grande dell'altro ma neanche in mezzo il gregge ok e questa cosa qui era esattamente ciò che accadeva ok nell'antichità fra tutti questi patriarchi per andare a chiudere il discorso a un certo punto il patriarca il vescovo principale di roma si sveglia una mattina e manda una lettera al vescovo di al patriarca di costantinopoli e gli dice caro mio io adesso sono il numero uno sono più grande di tutti e tutti quanti sono sotto di me e quindi tu sei scomulgato così semplice quindi non non c'era ok non c'era c'era c'erano tutti questi questi gruppi tutti questi gruppi ma tanti proprio tantissimi a un certo punto il papa il vescovo di roma si sveglia una mattina e dice io sono il numero uno tant'è che poi ci si concretizzerà si è concretizzata anche l'infallibilità papale come dire il papa ecco qui l'agnosi il papa è il numero uno il papa è dio il papa è senza peccato questo dogmaticamente i dogmi sappiamo tutti che cosa sono e quindi praticamente il grande scisma orientale della chiesa ortodossa che ortodosso non significa chiesa ortodossa il grande errore non solo storico ma proprio il grande errore che si commette per mancanza di conoscenza è quello di definire la chiesa ortodossa chiesa ortodossa la chiesa ortodossa non è chiesa ortodossa si chiama ortodossa come dire radicale tutto quello che vuoi ma si chiama la chiesa ortodossa è chiesa cattolica è chiesa cattolica solamente che si chiama ortodossa c'ha questo nome come dire anche noi ci sono chiese che hanno vari nomi tipo chiesa beneser chiesa casa celeste si ho capito ma sono tutte evangeliche ok la chiesa ortodossa è chiesa cattolica a tutti gli effetti quindi loro sono cattolici punto ma a un certo punto si concretizza questo grande scisma questa grande divisione no e io qui devo fare una battuta con delle parole magari poco carine ma che a modi di d'acchelle le voglio comunque usare a roma si dice arbue che dice cornuda all'asino cioè come puoi tu cattolico dire ai protestanti che adesso vedremo chi sono voi siete divisi quando voi siete i padri delle divisioni perché ma perché uno dei grandi scismi una delle grandi divisioni che c'è stata la la più grande e la più e gladante e la più famosa è quella è proprio lo scisma ortodosso cattolico cattolico ortodosso il nome di io sono di io io sono il papa io sono più grande tutti devono stare sotto di me quindi questa è storia ovviamente ripeto il cattolico non non cesserà di essere cattolico per questo l'idolatra non cesserà di essere idolatra per questo la scrittura dice non ti prostrare davanti a nulla e quindi l'idolata continuerà a prostrarsi davanti una statua una maria un pietro e continuerà a pregarlo nonostante la scrittura dice non ti prostrare e andranno a cercare i cavilli come dire mostrami un ebreo che nell'antichità si prostrava davanti i cherubini dell'arca o dipinti nel tempio non ci sono mai state queste situazioni ok però loro lo fanno quindi continueranno a farlo quindi eccetera 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 a in mezzo a questi due mondi che non sono gli unici sono oltre 247 il mondo cattolico in mezzo a questi due mondi ci sono delle divergenze incredibili non tutti pensano la stessa cosa per esempio chi va a deificare maria chi invece dice no maria non è stata magnifica non è stata senza peccato è stata una peccatrice come tutti quante riconoscono la sua scesa al cielo sì ma non riconoscono la sua infallibilità ovvero lei senza peccato quindi ci sono ci sono delle divergenze molto incredibili quindi il mondo cattolico è questo ma oltre a questi due grandi scismi come già detto nel video precedente e qui ho la lista molti credono che il mondo cattolico sia a loro dicono noi siamo un miliardo 250 nel mondo no no non è così la chiesa cattolica è formata da 24 chiese e 247 di cui abbiamo la chiesa cattolica la copta la etiope eritrea melchita greca bizantina cattolica greco cattolica ucraniana greco cattolica bielorussa greco cattolica russa greco cattolica bulgaria cattolica bizantina e slovacca greco cattolica unghieria cattolica bizantina di croazia e serbia cattolica rumena bizantina rutena bizantina albanesa cattolica macedonica cattolica armenia la maronita cattolica siriaca sirio malancar cattolica caldea siro malabar e quella romana storicamente queste queste chiese qua che a sua volta sono conformate da 247 nell'arco dei secoli con alcune di queste hanno sempre avuto una buona comunione con alcune con altri si sono fatte la guerra a suon di spada si sono ammazzati si sono proprio trucidati si sono perseguitati con dogmi diversi e quindi non tutti nello stesso allo stesso interno del mondo cattolico romano dove c'è il vostro papa lì persino là dentro si sono fatti la guerra suon di spada per esempio vi abbiamo già portato il fatto che nasce nel 1100 fino al 1000 1415 dove si sono perseguitati fra cattolici perché alcuni dicevano che maria era senza peccato e altri dicevano no maria è peccatrice come tutti quanti e in virtù di questo si sono perseguitati e si sono ammazzati si sono trucidati ci sono stati una infinità di morti e morti in che maniera si uccidevano quindi noi possiamo vedere che de facto il mondo cattolico storicamente parlando e ancora oggi non è mai non è mai stato unito è sempre stato completamente diviso e il papa di roma ha dovuto concretizzare l'unificazione l'unione del suo impero religioso a suon di spada a suon di persecuzioni a suon di inganni e così via discorrendo questa è la realtà poi con il secondo concilio ecumenico no il secondo concilio ecumenico con il secondo concilio c'è un corpo di amnesia questo ultimo vabbè abbiamo capito chi conosce la storia sa a quale concilio mi sto riferendo ok questo secondo concilio che è l'ultimo grande concilio che ci fu dove dove lì si andrà a determinare che praticamente sia i protestanti che effettivamente i protestanti sono fratelli separati ma noi non ci entriamo nel protestantismo e questo il cavillo ma di questo ne parlerò fra un po' e si andrà anche a mettere nero su bianco l'unificazione di tutte queste 24 chiese nel mondo cattolico apostolico romano quindi andranno a essere inserite e andranno a essere riconosciute come fratelli e come una sola chiesa quindi il miliardo 250 cattolici comprende tutte queste chiese perché la sola chiesa cattolica apostolica romana sono quattro gatti inoltre dobbiamo comprendere che la una altissima percentuale forse il 50 per cento dei cattolici non sono cattolici perché appunto uno dice essere cattolico perché persegue la religione cattolica no sono cattolici perché semplicemente quando sono nati nel cattolicesimo vieni battezzato appena nasci di conseguenza il tuo nome viene inserito dentro la chiesa cattolica quando tu crescerai praticamente tu risulti cattolico ma magari tu neanche credi in dio magari sei pure omosessuale lesbica ladro mafioso camorrista andranghetista massone ignostico bestemmiatore violentatore rubatore narcotrafficante quello che ti pare però tu risulti cattolico ma tu non sei cattolico e magari andrai in chiesa in tutta la tua vita dieci volte una volta quando te sposi un'altra volta quando nascerà qualche fio tuo per tradizione lo porti là e lo fai lo fai come mcgregor no chi conosce i sport d'acco da da combattimento ha fatto ride mcgregor che è venuto qua a roma ha menato ha fatto un pazzo scatenato che fuori di testa che fa l'mma è un cristiano che fa l'mma lascia un po a desiderare è venuto qui dal papa perché ha dovuto fare non mi ricordo se si è voluto sposà qui dal papa e che c'entra quel che mcgregor col col cristianesimo e col cattolicesimo però viene vengono riconosciuti in qualche maniera ma non hanno nulla a che fare col col cattolicesimo questa gente qua un buon 50 per cento non sono cattolici però nella carta risulta che i cattolici sono un miliardo 250 nella carta ma de facto sono sì e non la metà 700 milioni 750 milioni de facto questa è la realtà altro che voi voi vabbè i protestanti sono divisi noi siamo uniti no qualsiasi persona che conosce la storia e conosce non solo la storia arcaica ma conosce la storia moderna sa perfettamente che questa non è la realtà ripeto il cattolico continuerà ad essere cattolico anzi negherà i fatti punto però noi vogliamo conoscere un attimino la situazione un altro punto importante è quando vedi l'ignoranza ma anche da parte no da parte nel nostro mondo evangelico c'è molta ignoranza ecco perché facciamo questi video allora voi protestanti ok ma tu sai dove nasce il termine protestante sai che cosa vuol dire protestante no la maggior parte delle persone non lo sanno guarda se tu non comprendi il punto esatto storicamente dove nasce il termine protestante navigherai sempre nell'ignoranza e sarai come quei youtuber che vendevano le patate e le melanzane man manca al mercato nella bicicletta nella motoretta strada facendo se fermavano vendevano patate melanzane che non c'è niente di male però basta non avevano mai fatto altro nella vita e poi oggi si scoprono che c'è un telefonino che possono fare i video su youtube e se mettono a di castronerie senza nessun formamenti perché tu puoi anche vendere patate puoi anche vendere zucchine se studi con competenza e sei sincero ma che dio te benedica ma qui c'è gente che senza nessun formamenti e in più mendaci e bugiardi scoprono che a un certo punto esiste un telefonino e si mettono a fare video e siccome molte persone sono assetate di mezzogna ovviamente gli vanno dietro perché la maggior parte delle persone piace la mezzogna non piace la verità allora lo dico con rispetto ma con autorità il nome della verità della storia vi voglio insegnare dove nasce il termine protestante e che martin lutero non c'entrava niente col protestantesimo allora tutto risale a cavallo fra il 1400 e il 1500 nei secoli ci sono sempre stati una miriade di sollevamenti però il mondo cattolico apostolico romano li andava a riprimere con la spada con la violenza con le torture le inquisizioni le crociate bruciare le persone nelle piazze affinché servissero di esempio quindi ci sono sempre stati dissidenti è sempre stato diviso questo mondo il cattolico apostolico romano proibiva che il popolo conoscesse la verità e quindi per concretizzare questa proibizione che faceva beh quando c'era l'ora della messa la faceva in latino e per di più dando le spalle al popolo perché il popolo de facto non è degno di guardare il prete in faccia non è degno di ascoltare la parola di dio e quindi viene fatta in latino così nessuno ci capisce niente inoltre le scritture vengono proibite la lettura delle scritture vengono proibite la traduzione delle scritture vengono proibite come dire le scritture non si possono tradurre e allora per quale motivo il mondo cattolico apostolico romano le ha tradotte dalla lingua originale al latino fra l'altro la peggiore dicono gli esperti traduzione delle sacre scritture è proprio la vulgata fatta in latino una una porcheria totale come dicono gli esperti io non lo so perché io di latino non ci capisco niente però gli esperti gli accademici gli universitari gli studiosi quelli che ci hanno 45 lauree non quelli che vendono la porchetta sulla bicicletta mentre camminano per le strade ok no no quelli proprio che hanno voce in capitolo questo dicono ok allora per quale motivo il cattolicissimo ha tradotto la sacra scrittura in latino però gli altri non lo possono fare quindi vedi john has e molti altri che andranno a tradurre le scritture nella lingua corrente verranno perseguitati perché il popolo non deve conoscere quello che dice la parola di dio e così via discorrendo ecco che cos'è il cattolicesimo apostolico romano cari miei amati nel signore ok quindi a un certo punto però malgrado spesso ci sono state delle insurrezioni storicamente parlando e questo mondo sempre stato molto diviso ma tra il 1004 il 1005 queste questi tentativi di insurrezione ormai non si possono più detenere è impossibile detenere tutto e quindi a un certo punto si concretizza un focolaio ora a destra ora a sinistra e cominciano a nascere più personaggi fra cui spiccano due calvino e lutero ma ce ne sono stati a bizzeffe a centinaia non solo swingli e molti altri ma proprio a centinaia ce ne sono stati io a memoria non è che me li ricordo però se ti metti a studiare o quanti ce ne sono stati ma quelli che proprio hanno in qualche maniera attirato l'attenzione sono stati appunto lutero e calvino due personaggi molto distinti in quell'epoca là il pensiero calvinista attecchisce attecchisce proprio attecchisce e quindi una una buona parte delle persone comincerà a seguire questo pensiero calvinista che si discosta completamente dal cattolicismo dove calvino a sua volta prende come dire prende gli scritti di agostino detto santo e quindi andrà a proporre la predestinazione e che cosa succede che si formeranno delle 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 facoltà e quant'altro dove appunto si andrà a insegnare questa dottrina calvinista che sta appunto nascendo in quella nuova forma ok possiamo chiamarla la il la vabbè la new predestination vabbè la questa nuova forma di di predestinazione vista da calvino che prenderà molta forma adesso sto parlando dove nasce il termine protestante ecco perché sto facendo questo ragionamento storico a un certo punto in mezzo le file del calvinismo c'era un uomo no un ragazzo scusate c'era un ragazzo un giovanotto e lasciamo stare adesso la sua storia gli è morto il padre lasciamo stare tutto questo che non ci interessa questo ragazzo era un ragazzo altamente intellettuale perché all'epoca i grandi pensieri si affrontavano come dire da un punto di vista intellettuale cioè praticamente quando nascono questi grandi movimenti tra cui anche il movimento mennonita il movimento mennonita nasce da sostanzialmente da cinque persone ma erano tutti 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 laureati perché praticamente si affrontava il tutto da un punto di vista cattedratico laureati i dibattiti erano molto intensi c'era la conoscenza del greco antico dell'ebraico e così via discorrendo e una persona sprovveduta senza questi grandi studi non poteva affrontare questi grandi sapienti ecco perché quindi un novello uno che vendeva patata al mercato sarebbe stato distrutto in un attimo in un secondo con la semplice retorica ecco perché era molto importante all'epoca avere appunto poi chi prendeva la laurea in meno in francia chi doveva avere tutto questo sta andando a memoria chi doveva avere la laurea in religione doveva prima a studiare mi pare giurisprudenza prendere la laurea in giurisprudenza o non so se un'altra materia puoi prendere la laurea in teologia e così via discorrendo ok allora che cosa succede che in mezzo alle file del calvinismo nasce c'era c'è nasce questo ragazzo chiamato arminio che era un ragazzo promettente era un ragazzo brillante viene mandato nelle facoltà calviniste di allora e allora questo ragazzo prende prima una usiamo un linguaggio moderno prende una laurea poi se non vado errato ne prende un'altra e quindi ha più lauree e nelle facoltà calviniste e è un ragazzo che è difficile da tenergli testa è un ragazzo che controbatte è un ragazzo che diventa grande diventa subito pastore e malgrado la sua giovane età ma all'inizio non viene molto preso in considerazione perché giovane e in quel tempo se tu eri troppo giovane non venivi molto preso in considerazione come giustamente doveva essere e insomma però sta di fatto che questo ragazzo va crescendo sia con le lauree sia con l'età sia con l'esperienza pastorale e diventa imbattibile un calvinista vero e proprio e nessuno poteva tenergli testa ma a un certo punto in un famoso dibattito che questo questo uomo poi diventerà un uomo questo ragazzo ebbe a un certo punto lui fa un dibattito che adesso sto andando a memoria tutto a memoria non mi ricordo con chi è praticamente lui nel dibattito capisce che la la dottrina della predestinazione calvinista non è vera cioè lui lo capisce dice dio mio ma qui c'è qualcosa che non va e allora va in tilte il suo cervello va in tilte dice ma io ma che cosa ho fatto tutti stanni in che cosa ho creduto e comincia indagare 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 e si accorge che non c'è predestinazione ma che c'è libero albitrio e che la salvezza è universale e capisce questo e a un certo punto comincia a remare contro il suo stesso ordine calvinista arminio poi c'è tutta la storia lui prenderà un dottorato comincerà a insegnare come professore all'università non mi ricordo dove e così via discorrendo ci sono tanti dibattiti a un certo punto questo arminio diventa una sorta di senso parallelo lato anche se in maniera diversa di agostino nel senso che agostino era professore di retorica e nessuno gli poteva tenere testa nei dibattiti per quanto era forte bene lui che invece professore in teologia arminio diventa imbattibile nei dibattiti non è non esiste non è mai esistito un solo uomo e si sono sollevati cattedratici professori tutti in teologia e nelle varie materie di allora per cercare di distruggerlo era impossibile mai nessuno lui è morto senza aver perso un solo dibattito niente non c'era verso di distruggere il pensiero di arminio un pensiero tutto suo tutto nuovo tutto particolare dove lui incentrava molto anche sulla patristica essendo professore di mille cose tutte cose imparentate con appunto teologia storia dei padri della chiesa non era uno che ne conosceva due tre quattro era uno che conosceva tutti che sono centinaia i padri della chiesa era uno che ti diceva come stanno le cose che i padri della chiesa non hanno come discorso generale non hanno mai parlato di un rapimento pre o post tribolazionista come discorso generale e che i padri della chiesa questa è una parentesi post tribolazionisti sono quattro gatti la maggior parte dei padri della la maggior parte dei padri della chiesa quando tu li leggi quando tu li studi il pensiero può essere pre tribolazionista o post tribolazionista l'idea non è chiara ma questi i dindirindini non me lo dicono perché sono falsi perché sono micidiali perché mentono a meno che non siano incompetenti e se sei incompetente perché insegni capragnostica abbi pazienza io ti chiamo per nome chiudo parentesi quindi questo arminio aveva un suo modo tutto suo ma non si poteva fermare per andare a chiudere so che è un video lungo però ragazzi è la cultura richiede investimento ok allora questa è storia tutto quello che io vi sto dicendo è storia qui non si tratta se sei d'accordo o se non sei d'accordo qui si tratta se vuoi vivere nelle favole nelle chimere o nella realtà a un certo punto il mondo calvinista organizza una una riunione un sinodo un sinodo come si dice in italiano un sinodo organizza un sinodo a dort dove chiamano arminio e gli arminiani tutti i professori cattedratici gente con appunto minimo il più ignorante aveva una laurea più lingue e così via discorrendo a un dibattito il sinodo di dort allora che cosa fanno dobbiamo capire anche il contesto storico in quel momento se tu venivi accusato di eretico c'era la pena capitale quindi se tu andavi a fare un dibattito e lo perdevi e venivi accusato da eretico ti bruciavano vivo questo è il contesto storico che cosa fanno loro vanno subito questi questi qua arminio e i suoi e i calvinisti sapendo che ormai da anni 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 e anni mai nessuno era riuscito a poter vincere un dibattito con arminio e i suoi che cosa fanno quando inizia il sinodo non li fanno parlare non hanno voce in capitolo e in questo sinodo si concretizzano più situazioni per la prima volta nella storia arminio e gli arminiani vengono chiamati vengono nominati vengono denominati protestanti e per la prima volta nasce il termine protestante nella storia quindi il termine protestante non ha a che fare col fatto che il cattolicesimo si è diviso con martin lutero e qui entriamo in un altro discorso ma ha a che fare all'interno del mondo calvinista che all'interno del mondo calvinista c'è stato uno scisma che arminio che era un calvinista si accorge che la predestinazione non esiste e gli rema contro e nel sinodo di dorte arminio e gli arminiani e l'arminianesimo vengono chiamati protestanti domanda noi siamo protestanti io non so arminiano anche se credo molte cose che credeva arminio certo io credo nel libero arbitrio ma non per questo so arminiano alcuni dicono io sono arminiano io qua io là io mi chiamo alessio evangelista e so cristiano punto so evangelico e fine da storia poi tutte queste cose ci sono cose e cose ma qui non voglio entrare quindi secondo punto è questo quindi primo punto cattolicesimo completamente diviso secondo punto il protestantesimo come nasce il protestantesimo nasce il protestantesimo vero l'essenza del protestantesimo nasce all'interno del mondo calvinista quello è il protestantesimo poi col passare del tempo viene attinto a questo fatto viene preso in prestito questo nome protestante e viene utilizzato a chiunque non fosse cattolico e infine martin lutero chi era martin lutero quando ha fisso le sue 95 tesi nella famosa cattedrale lui non ha detto ah io adesso mi dissocio dal cattolicesimo non sono più cattolico martin lutero è stato cattolico tutta la vita tant'è vero questo che il cattolicesimo lo dovette scomulgare ma tu non vai a scomulgare qualcuno che lui si dimette da solo martin lutero non era d'accoglio su molte cose della chiesa cattolica fra cui le indulgenze e molte altre cose ma non ha mai cessato di essere cattolico martin lutero ha adorato Maria tutta la vita l'ha pregata l'ha venerata gli ha detto a Maria che era senza peccato la transustanziazione la 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 santa messa la l'ossia vivente e tutte ste bagianate martin lutero non le ha mai lasciate martin lutero è stato cattolico tutta la vita tant'è che fu la chiesa cattolica che lo scomulgò ecco perché giustamente e questo è vero la chiesa cattolica dice i fratelli separati protestanti in parte è vero perché i protestanti tipo i luterani sono cattolici separati non sono evangelici il mondo evangelico è sempre esistito ma già 500 anni e ancora prima della riforma del 1500 già c'erano gli evangelici quando nasce il movimento pentecostale nel 1900 il movimento pentecostale nasce nel 1900 sì ma la dottrina del movimento pentecostale non nasce nel 1900 nasce 2000 anni fa ecco qui il termine sola scrittura che noi ci rifacciamo alla sola scrittura e quindi noi attingiamo alla sola scrittura che nasce 2000 anni fa in mezzo a questo movimento pentecostale a sua volta ci sono infiltrazioni cattoliche gesuiti che si infiltrano gente che va fuori di testa e chi più ne ha più ne metta metta so 48 minuti che sto a parla io penso che quanto detto è più che sufficiente insomma se vuoi essere una persona che conosci i fatti e non vuoi essere un ignorante io ti ho presentato la verità e la storia e la razio come bisogna ragionare perché io devo ragionare e non posso dire in nome di che ne so sono cattolico sono una sola chiesa noi non siamo divisi e così via discorrendo quando voi siete i più divisi del mondo questo non è ragionare quindi voi dovete imparare a ragionare per imparare a ragionare bisogna conoscere la storia in questo caso e bisogna imparare a ragionare cioè praticamente qualcuno si 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 ecco impara a ragionare quando il il falso mondo cattolico dice voi protestanti e scrivono un libro siete oltre 3000 uno che ragiona dice mi dai la lista dei 3000 movimenti evangelici non esiste questo è razio questa è ragione non esiste però siccome tu non stai cercando la verità ma vuoi portare avanti la menzogna dentro il tuo cuore perché il problema è il tuo cuore tu sei disposto a non indagare e a fare la propaganda alla menzogna pur di portare la menzogna dentro il tuo cuore perché ignostico sei mostrami la lista dei 3000 movimenti o 7 evangeliche non esiste noi non arriviamo a 200 paradossalmente il cattolicesimo che nei 24 movimenti che vi ho descritto prima ce ne sono 240 noi siamo di meno perché siamo circa 180 quindi siamo meno divisi di loro qualora fosse divisione ma non è altro che libertà di espressione ma questa è un'altra storia Dio vi benedica con voi come sempre stato Alessio e Evangelisti se il Signore vorrà ci si vede al prossimo video programma Shalom condividi condividi la verità e indagate